Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo che sta piovendo su gran parte della Toscana, raccomandiamo di modellare la velocità e di mantenere la distanza di sicurezza. La mobilità in Fipili coda per incidente tra Ginestra e la Strassigna verso Firenze, regolare il traffico altrove. Ultima pagina per il traffico ferroviario in occasione del Carnevale di Viareggio, domani 11 febbraio vengono effettuati i seguenti treni straordinari, il 94-507 in partenza da Viareggio alle 18.29 con arrivo a Firenze alle 21.10 e il treno 94-509 Viareggio-Lucca delle 18.57. Dobbiamo salutarci per il traffico urbano di Firenze, è stata attivata la modifica alla viabilità del quadrante Via Guido Monaco, Via delle Ghiacciaie e Via Cittadella, con inversione del senso di marcia di quest'ultima in direzione di marcia verso Via delle Ghiacciaie e il relativo adeguamento dell'impianto semaforico. Buona verità di Toscana Info, servizio in collaborazione con ragione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!